BMI Talk nasce innanzitutto dall'idea di tornare ancora una volta a vederci, a frequentarci, ad essere in presenza, quindi a poter avere uno scambio con tutti i nostri clienti che siano progettisti, imprese, installatori e poterci un po' confrontare sul mondo dell'edilizia. È cambiato tanto dopo il Covid, siamo ancora in un periodo di profondo cambiamento e per noi è molto importante avere l'opportunità di dialogare con tutti gli interlocutori del mercato. Secondo noi BMI Talk è una risorsa molto importante per i progettisti in quanto è un momento di scambio, un momento di interconnessione, ancora una volta fortunatamente in presenza, dove noi siamo un'azienda multinazionale abituata a confrontarci quotidianamente con tutti gli interlocutori del mercato, nei cantieri, quindi viviamo quotidianamente la realtà edile italiana e dal confronto che possiamo avere in aula e dal confronto che possiamo avere scambiandoci diversi punti di vista, possiamo crescere noi e pensiamo di poter dare degli spunti di miglioramento a tutti i nostri clienti. BMI Academy è cambiata molto, eravamo abituati esclusivamente a incontri in presenza sul territorio o qui nell'Academy, quindi nella nostra sede a Borgonato Brescia. Ci siamo abituati, purtroppo anche a seguito a causa del Covid, a fare molti incontri virtuali. L'incontro virtuale sappiamo che viene comunque preferito ancora molto da parte dei progettisti, ma sappiamo che c'è una grande voglia e leggiamo soprattutto una grande voglia di rincontrarsi, di confrontarsi di nuovo anche perché la relazione umana rimane fondamentale. Crediamo profondamente nelle relazioni umane perché per noi il supporto aziendale vuol dire essere vicino al cliente e quindi l'unione di ciò che è online con l'unione di ciò che è in presenza pensiamo che possa arricchire incredibilmente sia noi che i nostri interlocutori. Grazie a tutti.